E' il mio nome di servizio. Un miele. Miele è il mio nome di servizio. E dovremmo essere un desiderio. Quanti tre sono rimasti? Ce n'avevo una e nell'ultimo viaggio ne ho presa altre due. Stai attenta? Sto attenta. Si chiama Grimanti. E' ingegnere. Sta qua a Roma. Sono le sue mani. E' la prima volta di morire. C'era molto dolore. No, nel modo più assoluto che... Lei mi ha mentito. Lei non mi ha chiesto niente. Ieri sono venuti i carabinieri. hanno chiesto di lei. A volte non si capisce. Non possiamo sempre sapere qual è il limite del nostro intervento. Non c'è una regola. Non c'è una regola. Io ce l'ho una regola. Io credo in quello che faccio.